Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista esperto in fitoterapia. Abbiamo appena concluso la seconda giornata della depurazione metabolica. Mentre nel primo giorno ci eravamo concentrati nel eliminare velocemente le tossine che si erano intrappolate all'interno del nostro organismo, considerate che le tossine, essendo molto acide, richiamano magnesio e quindi posso sentirmi stanco, posso avere dolori, posso avere crampi, emicrania, cali di attenzione, posso avere tutta una serie di problematiche comprese dei blocchi metabolici. Per qualche motivo i micronutrienti non riescono a essere intrappolati, trattenuti all'interno delle nostre cellule per produrre energia e quindi in quel caso tornano al fecato e vanno a produrre grasso. Le mie cellule poi richiamano nuovo cibo e si crea questo blocco metabolico nel quale le persone tendono a ingrassare e manifestare delle problematiche metaboliche. Abbiamo eliminato le tossine e abbiamo attivato il metabolismo. Nella seconda giornata, quindi oggi, abbiamo iniziato a utilizzare le nostre riserve energetiche come energia vera e propria. Non abbiamo avvertito il senso della fame neanche per un istante, ci siamo sentiti forti a tal punto che durante l'allenamento mattutino abbiamo potenziato l'attività sportiva a livello anaerobico, quindi abbiamo compiuto degli sforzi a livello muscolare tali che vanno ad innalzare il nostro metabolismo basale. degli esercizi poi di allungamento nella serata, sempre con il nostro dottor Cialdella, per andare a eliminare le tossine, andare a mobilitare dal sistema connettivale. Quindi poi dal connettivo, questa sera sono passate al sistema linfatico e adesso con la tisana metabolica, con del cardomariano, del carciofo, del tarassaco in tintura madre e l'alimentazione che è stata proposta insieme a questo percorso, andremo a eliminarle velocemente. Domani sicuramente ci sveglieremo con ancora più energia e voglia di fare e continueremo con la terza e ultima giornata della depurazione metabolica. Grazie dell'attenzione e seguite i miei consigli. Ciao!